Saluto a tutti, ci siamo tramutati oggi in una Corsica sottana che fa un biaglio, una storia vecchia e antica della Corsica. Allora siamo qui nel sito di Filitosa, sono dei sidi archeologi più conosciuti in Corsica e anche in Francia. Sono un sito privato, allora prima ringraziavo il mio Cesare che ci ha permesso di fare questo film. Per parlare di questa storia a Corsica ricevo il Gesare che ti circondo. Giuseppe è stato un capimacchia di aerezione dell'archeologia a Corsica durante tanti anni e anni. Io ti saluto, ci siamo in dubbio perché ero insieme in facoltà. Allora, dimmi appena, qui c'è un sito maio per la storia a Corsica? Un sito maio è stato il primo sito che è stato veramente sfruttato dall'archeologo. A parte dal 1956 è stato Grosjean, che era a quel momento rocenaire, che ha, infatti, scavato e che ha messo in luce tutto il patrimonio di questo sito di Filitosa. Di quando è questo sito? Allora, il sito che noi dimmo è un sito abbastanza tardivo, è dell'epoca del bronzo, da 2800 a.C. Questa è la strutturazione dell'usito e ciò che noi chiamiamo tutti i gas e tutti i torri che ci sono sull'usito, Quindi è un castello? Chi siamo qui? Qui siamo andati a una piccola torra che sicuramente aveva una funzione che oggi non sappiamo più esattamente, che era una torra centrale, ma ciò la veda che è usito, ci sono evoluzioni che non si pone mica bene con noscia, c'è stata un'evoluzione di usito. Prima sicuramente hanno cominciato a fare un recinto, un recinto murario che chiude completamente questa parte che è sopra due piccoli vadini, una vadina che è sempre in acqua e una che si chiama sardedi, che è un curia che per esempio l'estate non c'era mica acqua. Ma questo è d'ora per divendosi? Allora sicuramente mica, ma almeno per sfruttare, per vedere e anche forse la torra occidentale guida sicuramente è una torra piuttosto di divendosi. Qui sanguini può essere che da un momento dato ha avuto l'utilizzazione, ma dopo ha avuto forza di altre utilizzazioni. Allora, estantare? Estantare sono state, quindi che non vediamo qui, sono state trovate come riempiego in una muratura di questa torra, ma non vuole mica lì che dedattano la prima torra, da un momento di danno costruito la torra. Si può dare che le signe sono state spezzate e che le signe sono state riutilizzate più tardi quando danno arrivate la torra e che i stati non avevano più un mondo significato per cui le costruivano. Infatti sono state state spezzate? Sono state spezzate in tre o quattro pezze. E c'è una faccia, non la faccia? Ripresentano tutto una persona singolare. Tutti obbediscono a un certo schema che finalmente è quello di umano, ma hanno tutta una singolarità che faccia che sicuramente riconosciano in una o in un'altra tale o tale personaggio. Ma quali sono state state? Sono capimacchia? Sono guerrieri? Non si può mica dire, ma sicuramente guerrieri e sicuramente guidi che avevano il potere in questo momento. E non ciò mica a pensare che il mondo dell'epoca del bronzo grosso sia completamente distaccato dal contesto mediterraneo. Dunque si deve vedere che al momento dell'epoca, quando il commercio del bronzo è in particolare al massimo di scambi, a questo momento c'è in tutto il Mediterraneo classe di guerrieri, classe di re e di aristocrazia che si mettono a posto. C'è una potenza? Quelli che sono bassi? Sicuramente. Quelli che sono in alto, il potere viene da ciò che detengono, cioè di un metallo, cioè di un bronzo. Quindi è per questo che anche tutti i re di potenza che sono nel Mediterraneo sud hanno tutti un potere a parte del momento che tesorizzano il bronzo. Ecco, il bronzo può ne va bregare armi, può ne va bregare carri di l'era, eccetera. E' un progresso dando il bronzo? E' un progresso sicuramente perché viene dopo il periodo del rame e sicuramente il bronzo è un mescolamo. Mescolamo di stagno e di ramo, o mescolamo di ramo e di piombo, ma soprattutto di stagno. e gli oggetti di ramo sono piuttosto deboli e non si può nemmeno troppo utilizzare, come per esempio armi, eccetera. Invece il bronzo è più forte, più tenace e diventa veramente uno strumento di potere. Allora, finendo queste fiori di estante viridosa, si propongono di mudarci le vie all'incontro di uno sicuramente dei primi corsi che hanno fatto le ricerche archeologiche di Francesco Donafranchi. Ha già cominciato verso 1958-1959, quando Grosjean è giunto in Cortica e mi ha domandato di aiutare un po' e in una misura del possibile abbiamo cominciato certi scavi insieme. La passione è venuta perché mi era scritto un'istoria all'Università di Toulouse e dunque era studiante a Toulouse e gli ho preso dunque l'archeologia, l'etnologia, l'antropologia come soggetti di studio. A Corsica, non meritiamo mica di stare in Corsica perché a Corsica c'era una cultura. Questa cultura, quando ero a Toulouse, perché sono venuto in Corsica, da Parigi, durante le vacanze, è giusto parto un'isola originale, di lento, non parlano mica francese, a parte di maio, non sappiamo che leggiamo e scriviamo, i titoli di mei anni andavano scalzi, a fare un'isola, un'isola a parte. Quando ero a Parigi, non stavamo neanche parlando ai miei amici perché ero a scoperto qui. e la sua preistoria è la stessa cosa. La preistoria di Corsica è qualcosa di unico, ma malorosamente non è mica conosciuta, primamente dai nostri letti, gli enti che non viviamo come letti, non si interessano mica. e si interessano, danno una subvenzione, facciano una riunione, ma interessare e sento salvare. Perché se volete, la chance di andare, la chance o malori, di andare a un sito archeologico, vedete, metto a Piendia. A me ci sono i sapienti almonchi, quando ero inuti, che l'ho portato in certi luoghi, ha detto, «Escoute, la Corsica è magnifica, ma voi, le Corsi, non avete niente là-dedans». A tal punto che l'ho preso come un affronto e poi dopo ho detto «Ma ti ragioni». Padaio è abbandonato, è massacrato, defigurato, abbandonato, pussato, quinto e colando in culo. È il più grosso allineamento di un Mediterraneo occidentale. 258 petri che sono stati pisati per le generazioni, le generazioni di Enio. L'Enio non ci credo nemmeno. Basta andare in Sardegna. Quando ero in Sardegna, avevo orgogliato. Avevo orgogliato, che l'ha studiato, non solo l'ha studiato, ma i giovani ha sfruttato, e ci sono le creazioni di funzioni. I megalitri sono, primamente, le enti di oca che si sono sprimati in cui i petri lunghi, piantati. O certi sono brutti, i petri, come ne hanno trovato una carriera, e certi sono tutti scarpillinati. E allora il studio consiste a avere ciò che l'ha diventato va. Il cucuruzzo è un sistema di monumenti, che hanno incominciato il secondo millennio, inizio a Gesù Cristo, e hanno incominciato con gruppi che sono venuti a installarsi. Hanno arrangliato i ricciati, hanno fatto tutti i muri di sostenimento di questi ricciati, hanno fatto un ricinto, tutte le costruzioni in cupetri maiore. Dopo, verso il 1700, innanzi a Gesù Cristo, verso la metà del secondo millennio, hanno indrizzato il torri. E questi monumenti sono localizzati nel sud e nel nord non c'è nemmeno. Dunque c'è la maniera di poter studiare due civilizzazioni nella stessa isola. Qui ci siamo al Museo di Livia, un museo departamentale di l'Alta Rocca. Qui sono concentrati tutti i documenti che hanno trovato e chi d'altro hanno trovato di noi. Qui siamo davanti alla tomba di Bonivazio, per chi è in Bonivazio, per chi è una mettesa di rottorato ha come tema di notare tutti i siti conosciuti. E allora in Bonivazio sono andato a Gesù Cristo, che era una traccia di salta, c'erano i bulldozeri che hanno arrivato a salta più di a metà. E Gesù Cristo l'abbiamo trovato durante dieci anni. e che hanno trovato non è una traccia di salta. Ma non c'erano i bulldozeri che si riuscite un animale che ha trovato il coniglio del topo che non c'erano più in Corsica e che si riuscite e 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 si riuscite a fare Ci sono i bulldo ciò a dici un bacchanic ciò che l'università admetìmo pidesse sviluppasse l'archeologia un segnamento e la pratica e che riuscite negli stagini di 10-15 anni non c'erano un anno ciò che ho trovato da parte da un anno e tutti i studianti imparerano allora che trovato non tutto il terreno non c'erano poco ciò che i giorni cominciano oggi temo attenzione temo i giorni che s'hanno scavato in una maniera magnifica e che facciano i trovati magnifici solamente ciò avviene all'inaiuto Ma come si può fare? che fa? si può fare ciò è andare a sottrinare le noce lette non c'è mica la volontà politica voglio dire non c'è mica una politica una politica è una cosa che si stabilisce in cui una popolazione vogliamo fare così che vogliamo fare ciò riunisce quelli che sanno e quelli che pensano e quelli che pensano e che sanno e va chi è dai? ho già 90 anni e che pensi che ti hai fatto? che pensi oggi? che gli ho dovuto fare oggi? penso che gli ho portato una contribuzione a conoscenza una contribuzione a un livello di un mese a più fa e di mezzo che ha già avuto perché mezzo ci n'era poco e sono contento perché i mondaglioni che cominciano a vare e beh trovate un esempio l'uomo del tuo passato e l'uomo di Lavinere si riuniscini trovate un con un mondaglione perché c'è un mondo che sono veramente veramente importanti ma solamente se non andano a gli amici che hanno accorso che non sono non so che non so che ci sono una questione che tutti mi hanno domandato perché questo sito è privato? io non posso capire non mi ha spiegaci appena le differenze che ci sono dei siti di pubblico perché sono una famiglia che esplode questo sito? prima di tutto i siti sono un'altra proprietà dunque i proprietà quando si tratta di archeologia normale che oggi chiamano programmata perché obbedisce a programmi di ricerca nazionale dunque qui l'archeologia programmata si esercita non a siti che appartengono a niente che appartengono a private si può esercitare anche non a proprietà comuni o pubbliche ma in Corsica soprattutto a più parte di siti erano private e quindi non erano economica privata a potenza pubblica l'ha acquistata l'ha compratta ma si può dire che l'ho abbandonata quasi io ho bisogno io non ho detto la radio mica così ma perché ci vuole che c'è sempre una grossa parte di di travaglio avanti avanti che ha un sito ha beneficiato adesso prima di scopare poi il 56 ha beneficiato che i proprietari si sono completamente investiti a niente questo sito prima è stato Garlantonio Cesare era un uomo che si è completamente investito e dopo i viglioli dunque ci vuole dire che sono due generazioni navale che sono completamente a servizio del sito ma come si può spiegare la differenza che c'è da qui a Caoria c'è un pezzo di reda c'è un pezzo di velo arbolè poi non c'è nulla come si può spiegare la differenza Caoria è stato scoperto anche nell'anni 60 ma Caoria è un sito deducere da molti proprietari c'erano tre famiglie proprietarie del sito di Caoria la prima cosa che è stata prima di proteggere dal punto di vista giuridico il titolo dei monumenti storici il sito di Caoria una parte è stata protetta non c'è nulla problema di proprietà in particolare la parte che veniva la famiglia d'Ortoli che ha sempre dato tutte le autorizzazioni per poter sfruttare il sito e per proteggere il titolo dei monumenti storici cioè sapere che la protezione dei monumenti storici è una protezione forte che è più forte che noteremo dal punto di vista giuridico in Francia ho 40 anni per fare così ho 40 anni per fare così perché ci sono tre famiglie e ci sono un nemico sicuro che ne tagliamo un proprietario che sia veramente un proprietario ci sono problemi che aveva in Corsica di indiviso eccetera e problemi anche di soldi per poter acquistare per poter acquistare e ciò che la potenza pubblica ha anche un momento per acquistare anche i mezzi per poter acquistare dunque in Cauria è stato acquistato in tre momenti cioè con tre proprietari differenti dunque oggi forza la collettività che è proprietaria di un sito veramente importante che va da punta del greco fino al piano di Gauria con tutti i standari l'allineamento di standari che ha protetto il titolo dei monumenti storici la collettività ha fatto scavi per conoscere meglio la storia di Susito dopo le scavi erano state evate ma le scavi non erano mai state portate completamente a questo termine parliamo appena di Gauria chi c'è in Gauria? Gauria c'è due allineamenti di standari due villaratti due villaratti di standari con standari e con paladini tutti questi monumenti erano conosciuti dai nostri antichi i maggiori conoscivano ma non avevano mica una conoscenza approfondita i pigliavano sempre per petri che avevano un senso piuttosto gattivo erano si chiamavano opera del diavolo opera dei giganti o idoli dei mori erano mal visti mal visti ciò lo sape che in la bibbia c'è una condanna dell'idoli l'uomo ha fatto ha più grande ha più grande ingiuria ha più grande ingiuria di addio e di far per se stesso un monumento che adora dunque l'idolo è completamente scomunicato c'è una lettera di Gregorio Lecran che dice che in corso era una lettera di una circolare per prendere un vocabolario amministrativo infatti il Papa raccomandava ciò che gli consiglia avevano a tutti i vescovi anche in Sardegna perché Gregorio Magno ha scritto anche i vescovi di Sardegna e ha la stessa formula cioè che la gente non deve nemico adora a Petra e olegio e questa è una una raccomandazione che che viene non solamente a quell'epoca ma anche a epoche molto più anziane Allora aiutate un affare che i lantichi avevano i violi in Petra e mettevano le regole per proteggerli? Allora i violi in Petra avevano una buona funzione ma una delle funzioni principali è che si pensava che potevano guarire dei colleghi di un miserere perché la Petra è abbastanza pesante è fretta e quando veniva a qualcuno una collega di un miserere una collega mortale mettevano sapere e sicuramente si pensava che davano un'azione piuttosto bene E i bled non le piaceva quello a fare? No ma i pastori per esempio avevano un altro piccolo oggetto preistorico che dipigliano erano i ciò che serviva a filà a filà senza sapere e poi potremmo mettere cattivo affare ma anche io avevano un uso vulnerabile erano sepolture che una 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 ma di noi sono i cazzarroni di Monte Revinco a Santo Pietro di Tenda. Le popolazioni campaniche sono già pastori a Sebigacostini? Sì, a queste epoche sono già pastori e coltivatori. Ciò è arrivato lì in un tempo molto più alto per trovare popolazioni che non sono mica pastori. La pastorizia inizia verso 6.000 avanti Gesù Cristo. Gugliano e cacciegliano, Nanzo? Nanzi, cogliano e cacciegliano. E diventano pastori? Allora, diventano pastori, forzamente mica le stesse popolazioni. Le popolazioni di pastori e di agricoltori sono giunti verso il 6esimo millennio. C'è un millennio, in grosso modo, di 64.000. Si sono cavalcati così, eh? Sicuramente che divermanno le popolazioni residuali dell'epoca mesolittica, ma quando sono giunti tramite la navigazione, sono venuti soprattutto da Toscana, perché avremo le tracce, potremmo stabilire oggi come le popolazioni sono venute attraverso l'arcipelago toscano. Allora, voi sei piano piano, chiamiamo l'epica greca e romana, piano piano ci chiamiamo. Allora, prima di andare più lontano ti promuco, ti voglio uscire un'Aleria. Allora, siamo andati, dunque abbiamo appena usato un sito importante, un sito maio. Un sito maio perché è stata, l'Aleria è stata la prima fondazione, dice, radio cittadina in Corsica, una prima fondazione dei vocei e dopo che venivano da Agusta Turca, dopo il 6esimo secolo a.C. e dopo è stata l'occupazione etrusca e dopo l'occupazione romana, è stata la conquista dei romani. Allora, andiamo un'Aleria. Qui siamo andati, un centro di Agusta Romana, che cobre, poco preso, 14 ettari, da un'aguletta dell'Aleria. E siamo andati, un centro, ma di un volo della tradizione romana, e un volo due, si face tutto ciò che è pubblico, tutto ciò che è politico, tutto ciò che è religioso, tutto ciò che è commerciale. In una città di 14 ettari, penso che non si può mica metter più di 2500 persone. La caratteristica dei romani è usare molte costruzioni, con calcina e con mattone gotto. Sovilli che hanno vatti qui? Sovilli che hanno vatti qui, tutti i muri che bovete qui, sovilli che l'hanno vatti, e l'hanno vatti probabilmente mentre ubriamo secolo prima di Cristo. e forse anche un po' prima, ma quando si guarda, quando si guarda, abbianta e agita, si vede che non è mica fatta in modo tradizionale romano. Si sa mica esattamente ciò che si può trovare all'epoca. Penso che hanno rubiato la strutturazione esistente e fortificando il muro queste tecniche di costruzione specifiche. Il luogo si presta. Perché si presta? Perché qui siamo sopra Ottavignano, sopra la voce di Ottavignano, in alto, di una sessantena di metri, anche un'ottantena di metri in alzato, e di là da preistoria, c'è uno stabilimento umano a Nanta Sazona. Tavigliani ha anche un'altra facilità, la risorsa che deve rappresentare è l'Istania. L'Istania comincia a formarsi 3.700 anni fa e si vede che corrispondono allo sfruttamento di terrina che mangia le morse ostre a quell'epoca. Dunque, un luogo si prestaia acqua, vicino al mare, stagni e una parte navigabile perché la voce di Ottavignano è navigabile almeno su un tratto di 2-3 o 4 km, o minimo. Dunque, ecco una situazione particolare di fronte al mare terreno, di fronte all'Italia, i cartaginesi e le etrusche quando è daniminto, quando è desostallato, hanno avuto sicuramente interesse a mettersi ad Aleria. Dopo, i romani avendo di fronte ad Ostia una zona così importante, sono venuti a conquistare Aleria. la città non era mica unicamente di ciottole e di mattona come avevi di mamà, in particolare i principali monumenti pubblici erano parte del marmoro, ma il marmoro l'hanno utilizzato a contatto al medioevo quando la città è stata abbandonata, il marmoro è stato tutto ridotto in calcina, perché mancava la memoria di calcina, fino a un'epoca recente c'erano i vornacci di calcina che non hanno usato stesso, vuol dire che il usito aveva una capacità sufficiente di marmoro per trasformarlo in calcina. Ose hai visto in Alireno c'è appena un'eserciza di capadoglio che è Caoria così non c'è più fuia non hanno più fatto nulla così non avanza mica una situazione dedicata perché ci vengono 60.000 persone tutti l'anno in Alireno che risponde a questa questione ma ti posso dire che il usito non è mai stato abbandonato ci siamo impiegati da anni a anni a fare a riunirci condizioni di uno sfruttamento scientifico e uno sfruttamento culturale di usito ciò a sapere di noi che abbiamo sempre mantenuto due guardi hanno usito dunque quando usito pensa che non si è mai fatto niente non si può dire completamente dunque usito il prodotto allora arriviamo appena alla storia come si faceva l'area di queste popolazioni preistoriche con quelli che scalano in Grecia con questi greghi che scalano come si faceva l'area che si passa tanto non sappiamo mica sicuramente prima faccio a vedere che da presso ai testi antichi in particolare da presso lo storico erodotto che scrivia ma che aveva informazioni più anziane ci dice che i greghi hanno stabilito una colonia un termine colonia è male impiegato perché ha una connotazione quasi peggiorativa e moderna ma infatti erano se città di Grecia peninsulare e anche insulare ma soprattutto le città di Grecia avevano qualche dettaglio cercano sbocche per il commercio cercavano l'uoga dove potevano approdare dove potevano giugno e commerciare con l'agente dunque non penso mica che i greci che erano dei marcanti soprattutto che disegnerano stati conquistatori ma se non si è passato poi se i bocchittisti che erano dicono hanno lampato le popolazioni verso la montagna l'hanno scritta a un periodo il periodo romano non è un periodo greco il periodo greco non era nemmeno sufficientemente non era nemmeno abbastanza e non è una primura la cosa che di facciano è di unghia di stare là con un santuario perché era l'atto di fondazione e dopo da suo punto che era sempre vicino al mare potevano commerciare fa i safari e facciano i safari dunque i greci verso il seiesimo secolo hanno fondato a Marsella come hanno fondato ad Alaria e Alaria che diventerà Alaria ma Alaria solamente sotto i romani tanti secoli dopo quasi sei secoli dopo dunque dopo una seconda fase della colonizzazione greca è venuta quando la città di Vocea che era la città che aveva fondato la colonia è stata distrutta dai persiani dall'irrani di oggi e dunque tanto una grossa parte della popolazione è imbarcata ed è venuta la colonia di Alaria si enti praticare un po' la pirateria e si impattronivano di una rotta commerciale in un terreno portavano il torto tanto alle Etrusche che erano installate di fronte che ai Venici i Venici e le Etrusche si sono Venici si sono messi d'accordo hanno fatto un patto e hanno dato una battaglia chiamata battaglia di Umare Sardonico o battaglia di Alaria che ha sconfitto infatti i gregi hanno perso senza perdere hanno perso perché hanno perso una grossa parte della Zomarina una grossa parte di Zomatella una grossa parte dei Zomini che sono stati prigionieri ma hanno ancora riusciuto a sopravvivere ma sono stati obbligati a spostarsi in Italia del sud verso Napoli per tagliare la gorta come scalano i Romani i Romani scalano perché Roma si costituisce come una potenza che ha bisogno di fare commercio ha bisogno di una flotta ha bisogno di avere legno e quando si legge per esempio un testo antico di Teofrasto che Teofrasto era un uomo che si interessava soprattutto di piante la storia di piante la prima storia botanica è quella di Teofrasto Teofrasto ci conta che i Romani sono andati in Corsica per tagliare e fare mondo l'inghia e i foresti da Corsica erano riputati come foresti particolarmente belli e la Corsica era tanto forestosa c'era tanto che era nera quando i navigatori vedevano a Corsica e vedevano nera era un legno che le interessava era un legno che le interessava dunque i Romani sono venuti una prima volta e dopo come hanno avuto progressivamente una potenza sempre più maio prima hanno cominciato per allargarsi al detrimento degli Etruschi e poi dopo sono venuti anche nelle isole isole di Corsica in cui Corsica c'erano delle battaglie dopo c'è stato durante tutto il periodo romano sino all'establimento della colonia di Silla ci sono state battaglie tantissime battaglie che hanno in gran parte adebolito la popolazione dell'isola perché i Corsi avevano bisogno di Asodara infatti si vengono cacciati e sono cacciati di Asodara si può dire non si può essere mica di così perché infatti i Corsi hanno trovato di nuovo certi sbocchi in armata romana e in marina in particolare ma infatti Roma ha bisogno di appartamenti orientali della Corsica per esercitare una sorveglianza della terrenia di un mare terrenio che era infestato dalla pirateria infatti abbiamo avuto la storia romana dopo questa creazione della Corsi e i principi avevano si può dire dopo la Corsi diventare cristiana una volta che Roma stesso ha accettato la religione cristiana dopo a Costantino di un museo ma parla appena questi musei non manca i miei baroli infatti in Corsica c'è due musei Sartè e Levie parliamo di Sartè chi si trova a questo museo? Sartè c'è proprio un panorama della preistoria dall'origine fino all'età medioevale fino al medioevo chi si deve allora si vede nel museo di Sartè ci sono collizioni che vengono in particolare da tutti i siti preistorici della Corsica perché Sartè è stato come capo di ponte di Ciaraglio della preistoria e si trova oggetti che provengono da praticamente tutti i siti della Corsica osse allora gli oggetti sono essenzialmente oggetti sia liti che sia di petra sia d'osso strumenti di petra strumenti d'osso e strumenti di ceramica e strumenti di metallo di noi trovano un orgoglio sì ma orgoglio non si conservano ma avevamo quantunque a lavorare di noi facciano intrecciare di noi facciano i sport e i panieri e avevamo per esempio un elemento che ci viene da una grotta di un ebbio scavata da Magdalene e da Jean-Claude Taviani e che è di epoca neolitica i primi corsi tra l'altro hanno a riolite per dire la francese perché non hanno mica scaglie silex a Petra Variglia chiamano in corso a Petra Variglia non c'è mica silex e obsidiana non c'è nemmeno no non c'è mica selce non c'è mica osidiana ma c'è questa petra durissima che viene da delle montagne la prima cosa è di pigliarla come tutti i ciotoli che sono nelle valline e in particolare nei fiumi scegliene i ciotoli di Petra Variglia e sfruttane è una è una a riolite è come l'Ossidiana è una Petra Vulcanica ma molto più antica e molto più dura e più difficile a spizzare c'è un pallosietto un altro sopra corti allora sopra corti hanno trovato effettivamente un sfruttamento di un ghiacimento di questa Petra Variglia che praticamente dà una qualità eccezionale di questa Petra come scala l'Ossidiana e l'Ussilex come scala scala attraverso attraverso il commercio le rute commerciale che sono stabilite da un eolittico se niente tagliudito ma da dove vanno non solamente agricoltore e pastore ma anche navigatori da dove vanno i scambi a Sardegna che sono popolate più o meno allo stesso tempo e l'isola ha tante tappe di rute commerciale che si mettono pianamente bene in posto e dell'espansione di laienti neolitiche che pianamente hanno da conquistare tutta l'Europa di un monte Arce in Sardegna bell'Ossidiana è così uno dei acimenti principali dell'Ossidiana nel Mediterraneo occidentale è quello del monte Arce ma l'Ossidiana può provenne da noi dall'isola Lipari dall'isola di Pantelleria o dall'isola di Ponzi dunque questa è una birra preziosa dando bei Corsi o podemos chiamare l'Ossidiana potremmo chiamare il petrolio di neolitico perché quando tu acquistai un chilò di Ossidiana un chilò un neolitico antico potrebbe cacciare da un chilò di Ossidiana a poco presso 100 metri di vilo tagliente coltelli punti di freccia pugnale e pezzatina per fare i valcini allora vogliamo cambiare di luogo andiamo all'Eria allora su Mosè all'Eria questi che si hanno l'Eria un museo è ma è fiore un museo d'Eria presenta tutta una collezione di oggetti che provengono dalla città romana di 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 all'Eria durante più di 30 anni quasi 40 anni a Nant Osito d'Eria ma soprattutto la religione maggiore di Eusito d'Aleria e qui da una necropoli preromana di Aleria. Sono tutte tombe che stanno a Casa Bianda e che continuano tantissime tazze, vasi e tanti altri documenti, armi eccetera. Per capire, infatti quando si morì si partìa con i suoi strumenti, era una stravita infatti. Si partìa con i suoi strumenti, ma non solo si partìa con i suoi strumenti che si prendono sempre la precauzione di piegare, perché alcuni si venivano a cacciare le persone per servizio, ma soprattutto c'erano i riti di sepolcrale, i riti di mortuari, che non accompagna il morto quando veniva morto e quando lo mettevano in una tomba. e in particolare c'era un rito che andava in cui ciò che chiamano un simposio, cioè che avevano i suoi strumenti, i morti erano disposti come se di mangiare, come se di erano a tolla un'altra banchetta, un tricligno, come se di erano. Partìa con la nostra vita, infatti. Partìa con la nostra vita. Infatti continuavano a vivere, ma di un'altra maniera. e c'era un pensiero che non volessero. E per questo c'erano anche iscrizioni che condannavano i guidi che apriano la tomba, che venivano ad aprire la tomba, erano condannati, erano giastemati, giastemati perché non apprezzano le tombi. C'erano fare un simmaio nell'Iria, l'Etrusche. Una grande parte della popolazione dell'Iria era di estrazione etrusca. E una popolazione malconnissuta dell'Etrusche? Una grossa parte degli strumenti e degli oggetti magnifichi che sono nell'Iria sono etrusche, sono di produzione etrusca. E parli di questi etruschi, perché c'è appena un immaginario dell'Etrusche. L'Etrusche era una popolazione che occupavano praticamente dall'Alpe fino a Napoli. Occupavano questa parte dell'Italia da una parte all'altra, da parte adriattica e da parte terrenica. Chi facevano un corso? E sono venuti perché erano di fronte a Gorsica. Quando tu vai a Gorsica, vedi a Gorsica. Dunque a Gorsica era una zona che poteva essere minacciosa se un'altra potenza veniva a installare. Per questo che i gregi l'hanno scacciata perché non potevano avere concorrenti che venivano a pirattare l'Etrusche perché gli etruschi facevano un commercio. Per compiere, questi oasi romani e etruschi sono fatti in Gorsica o sono venuti all'Algaia? Venuti tutti dall'estero. Non ne facevano mica in Gorsica da noi? Sì, c'erano, ma mica così belli perché qui c'erano un'officina e c'erano veramente una produzione particolare. Ci sembra l'aria. Perché c'erano i pittori, tanto perché c'è una parte che veniva da Grecia, ma una parte che hanno prodotto in particolare una maglia grecia, cioè un'Italia meridionale. Passa su capo i cani, su capo i cavalli, su asio, non c'erano i barchi. Dunque c'è tutta una varietà di oggetti preziosi che ti tesorizzano giusto per metterli nelle tombe. Allora, qui ci resta tre minuti. Oggi, se vogliono oggi per fare un punto, pensi che la nostra ricchezza è sfruttata, la nostra ricchezza di studi archeologici. Prima l'archeologia è una scienza che non ferma mai e la verità è forse una bacia d'umano o in tutto caso uno sbaglio d'umano. Cambia sempre. Cambia perché ci sono le tecniche che cambiano, cambia perché ci sono gli enti che riflettino differenze che i nostri anziani, quelli che ci hanno preceduto e che noi. Dunque, ci sono sempre cambiamenti e oggi, in quei mezzi che noteremo, avremo la possibilità di avere una più grande connessenza di tutto ciò che si face in un mondo intero, non solamente in un Mediterraneo, ma anche in altre zone del mondo. Poi c'è una ricchezza pro turismo. E' una ricchezza pro turismo perché a scoperta di nostre antichità è una ricchezza, ma è anche una ricchezza per la cultura e per capire le nostre civiltà. Sappiamo da dove veniamo. Sappiamo da dove veniamo. E' ciò che non possiamo diventare. Non si sbagliano mica, quindi, che distrugge il patrimonio di suo paese, di suo stato, come è accaduto in Siria in suo momento. Sì. Dottor, pensi che ci sia affare a fare? Non parlo mica di ricerca, perché oggi ci sono invece per fare questa gara e per la ricerca. Questa gara, ma la ricchezza, la ricerca, se tu vuoi, è oggi mutualizzata. C'è una mutualizzazione. C'è tante scienze che so, che lavorano con l'archeologo. Per dare un'idea e per dire una cosa forse che può interessare molto da gente, oggi un studio di l'ADN anziano è capitale, è fondamentale per conoscere la popolazione e per conoscere anche le nostre difficoltà sanitarie. Ho fatto, per esempio, che l'ostetrica ha fatto progresso sfruttando le radiografie di momie egiziane, perché non si può mica fotografare le donne incinte, eccetera. Invece che i momie non hanno più niente a credere. Un studio di tutto questo affare, di tutti questi momie, ha dato alla medicina, e in particolare alla medicina ostetricale, possibilità nuove di conoscenze. Per compiere, si vuoi parlare ancora di una civilizzazione originale? C'è qualcosa di originale in corso durante questa storia? C'è una parte di originalità, perché a Gorsica, come tutte le isole, è una zona piuttosto abbastanza chiusa. Anche se si apre, a certi momenti, ha un respiro, sia da partura, ma a tal momento anche di chiusura. E qui, in Avlitosa, siamo in una società particolare. Ci sono dappertutto, in Sardegna, in Italia, in Francia. Ma le caratterizzazioni di guide che sono state vattene in noi sono particolari, uniche, sono elementi di una civiltà. Per questo sono preziosi. Per questo sono preziosi. Più i vestiti sono anziani, più sono preziosi. Allora, Oise, ti ringrazio di averci fatto questo valutato, e di averci fatto la nostra storia. È bello che i corsi conoscono male la sua storia, perché non è mai stata insegnata. Oggi vedo che nelle scuole cominciano a insegnare la storia. È una buona iniziativa. È importante. È normale che i giovani abbiano una conoscenza di soccati. Allora, vorremmo che i corsi umani saranno più in favore della nostra storia e della nostra cultura. Vi saluto e buonasera a tutti. Grazie a tutti.